Il signor Charles Grandet, un bel giovine di 22 anni, formava allora un contrasto singolare con i buoni provinciali, fra i quali i suoi modi aristocratici suscitavano una specie di rivoluzione e che tutti studiavano per burlarsi di lui. A 22 anni, infatti, i giovani sono ancora troppo vicini all'infanzia per poter sfuggire alle fanciullaggini e forse anche su 100 di loro ve ne sarebbero stati 99 che avrebbero fatto come Charles Grandet. Alcuni giorni prima, suo padre gli aveva detto di andarsene per qualche mese da suo zio a Saumur. Forse il signor Grandet di Parigi pensava a De Geny ed egli, che capitava in provincia per la prima volta, volle apparirvi con tutta la superiorità di un giovane alla moda e pensò di mettere in subbuglio il dipartimento con il suo lusso di farvi chiasso e introdurvi la vita parigina. Insomma, per dirla in una parola, egli intendeva di impiegare a Saumur maggior tempo ancora che a Parigi nella cura delle unghie, e voleva affettarvi quell'eccessiva ricercatezza nell'abbigliamento che talvolta un elegante trascura con una negligenza non priva di grazia. Portò dunque il più bell'abito da caccia, il più bel fucile e il coltello più fine entro la miglior guaina. Portò la più svariata collezione di panciotti grigi, bianchi, neri, color scarabeo, a riflessi d'oro, a pagliucole col bavaro ripiegato, a bottoniera d'oro, eccetera. Portò tutte le varietà di colletti e di cravate in uso a quei giorni, due abiti di buisson e la sua biancheria più fina. Portò una graziosa toletta d'oro, dono di sua madre, e infine tanti non nulla da damerino, tra cui un piccolo scrittoio bellissimo, avuto dalla più amabile delle donne, almeno per lui, da una grandama che gli chiamava Annette, e che faceva ora col marito un noioso viaggio in Iscozia, vittima di certi sospetti ai quali per il momento aveva dovuto sacrificare la propria passione. Vera, insomma, un carico completo di futilità parigine, dallo scudiscio che inizia un duello, alle splendide pistole cesellate che lo terminano. Suo padre gli aveva detto di viaggiare solo e modestamente. Egli, perciò, se n'era venuto in coupé riservato con la diligenza, lieto di non guastare così una bella carrozza da viaggio da lui commessa per andare incontro alla sua Annette, alla grandama che eccetera, e che egli doveva raggiungere nel giugno prossimo alle acque di Baden. Charles contava di trovare molta gente da suo zio, di andare a caccia nei boschi e vivere la vita di campagna. Non sapeva che egli fosse a Saumur, dove aveva chiesto di lui soltanto per farsi insegnare la via di Froafon, e quando gli dissero che era in città, suppose che abitasse in un gran palazzo. Per presentarsi bene in casa dello zio, tanto a Saumur che a Froafon, egli si era vestito da viaggio nel modo più elegante, più ricercato, più adorabile, per usare la parola che in quei giorni riassumeva tutte le speciali perfezioni di una cosa e di un uomo. Attur, un barbiere, gli aveva inanellato i bei capelli castani, egli aveva cambiato biancheria e si era messa una cravatta di seta nera con un colletto tondo che incorniciava bene il suo viso bianco e sorridente. Un soprabito da viaggio mezzo sbottonato lo stringeva alla vita e lasciava vedere un panciotto di cashmere aperto sopra un altro bianco. L'orologio, abbandonato con negligenza in una tasca, era tenuto da una corta catena d'oro ferma a un occhiello. I calzoni grigi erano abbottonati ai fianchi e ricami in seta nera ne orlavano le cuciture. Maneggiava abilmente una canna, il cui pomodoro massiccio, scolpito, non alterava la freschezza dei guanti grigi. Il cappello era del massimo buon gusto. Un parigino, soltanto un parigino della più alta sfera, poteva azzimarsi così senza per il ridicolo e dare una certa armonia a quelle minutaglie sorretto da un'aria di fierezza, l'aria di un giovane che ha belle pistole, ed il colpo sicuro, e possiede Annette. In ogni modo, se vi premesse intendere la reciproca sorpresa di quei di sommure del giovinotto, e scorgere di che il lampo sfolgorò l'eleganza del viaggiatore nell'ombra grigia della sala e delle persone che formavano quel quadro di famiglia, provate a figurarvi i crusciò. Tutti e tre annusarono tabacco, e da un pezzo lasciavano liberamente colare il naso, né si davano cura di evitare le piccole macchie sparse sul davanti delle loro camicie rosse a colletto ripiegato. Le cravate morbide apparivano simili a corde, non appena se le era messe al collo. Per l'enorme quantità di biancheria, facendo il bucato due volte all'anno e tenendo la roba da lavare chiusa negli arnadi, davano agio al tempo di imprimervi le tinte giallastre della vecchiaia. Tutto poteva dirsi un perfetto esempio di malgarbo e di senilità, onde anche i loro lineamenti, appassiti e flosci, come erano gli abiti malconci, sembravano usati, coriacei e facevano smorfie. La negligenza generale nei vestiti, sempre incompleti e privi di freschezza, come sono per lo più in provincia, dove insensibilmente si è usi a non vestirsi gli uni per gli altri e a non badare al prezzo di un paio di guanti, era in perfetto accordo con la misantropia dei crusciò. L'orrore per la moda era il solo punto su cui si intendessero crusciottiani e grassinisti. Il parigino avvicinava il suo occhialetto per esaminare i singoli accessori della sala, i travicelli del solaio, il colore delle intarsiature e i puntini che vi avevano impresso le mosche, tanto numerosi, da bastare alla punteggiatura dell'intera enciclopedia metodica o del monitore. I giocatori levarono il naso dalle cartelle e presero ad osservarlo con quella stessa curiosità con cui avrebbero contemplato una giraffa. Anche il signor de Grassin e suo figlio, ai quali la figura di un damerino non pareva cosa strana, subirono il contagio di quello stupore e, sia che cedessero alla suggestione di un sentimento comune, sia che partecipassero nelle occhiate piene di ironia, parevano dire ai compagni «Guardate un po' come sono a Parigi!». D'altra parte ognuno poteva osservare Charles a suo bellaggio senza timore di far dispiacere al padron di casa, già che questo era assorto nella lettura del lungo foglio che aveva davanti, dopo preso l'unico lume che era sul tavolino, dimenticando gli ospiti e i loro divertimenti. Eugenie, alla quale un tipo così perfetto tanto nell'abito che nella persona era affatto ignoto, credette di vederne il cugino una creatura scesa in terra da qualche regione serafica. Con vera delizia, ella aspirava i profumi esalanti da quella splendida capigliatura inanellata con tanta grazia. I calzoni grigi erano abbottonati ai fianchi e ricami in seta nera ne orlavano le cuciture. Maneggiava abilmente una canna, il cui pomodoro massiccio, scolpito, non alterava la freschezza dei guanti grigi. Il cappello era del massimo buon gusto. Un parigino, soltanto un parigino della più alta sfera, poteva azzimarsi così senza per il ridicolo e dare una certa armonia a quelle minutaglie sorretto da un'aria di fierezza, l'aria di un giovane che ha belle pistole ed il colpo sicuro e possiede Annette. In ogni modo, se vi premesse intendere la reciproca sorpresa di quei di sommure del giovinotto e scorgere di che il lampo sfolgorò l'eleganza del viaggiatore nell'ombra grigia della sala e delle persone che formavano quel quadro di famiglia, provate a figurarvi i crusciò. Tutti e tre annusarono tabacco e da un pezzo lasciavano liberamente colare il naso, né si davano cura di evitare le piccole macchie sparse sul davanti delle loro camicie rosse a colletto ripiegato. Le cravate morbide apparivano simili a corde, non appena se le era messe al collo. Per l'enorme quantità di biancheria, facendo il bucato due volte all'anno e tenendo la roba da lavare chiusa negli armadi, davano agio al tempo di imprimervi le tinte giallastre della vecchiaia. Tutto poteva dirsi un perfetto esempio di malgarbo e di senilità, onde anche i loro lineamenti, appassiti e flosci, come erano gli abiti malconci, sembravano usati, coriacei e facevano smorfie. La negligenza generale nei vestiti, sempre incompleti e privi di freschezza, come sono per lo più in provincia, dove insensibilmente si è usi a non vestirsi gli uni per gli altri e a non badare al prezzo di un paio di guanti, era in perfetto accordo con la misantropia dei crusciò. L'orrore per la moda era il solo punto su cui si intendessero crusciottiani e grassinisti. Il parigino avvicinava il suo occhialetto per esaminare i singoli accessori della sala, i travicelli del solaio, il colore delle intarsiature e i puntini che vi avevano impresso le mosche, tanto numerosi da bastare alla punteggiatura dell'intera enciclopedia metodica o del monitore. I giocatori levarono il naso dalle cartelle e presero ad osservarlo con quella stessa curiosità con cui avrebbero contemplato una giraffa. Anche il signor de Grassin e suo figlio, ai quali la figura di un damerino non pareva cosa strana, subirono il contagio di quello stupore e, sia che cedessero alla suggestione di un sentimento comune, sia che partecipassero nelle occhiate piene d'ironia, parevano dire ai compagni «Guardate un po' come sono a Parigi». D'altra parte ognuno poteva osservare Charles a suo bellaggio senza timore di far dispiacere al padron di casa, già che questo era assorto nella lettura del lungo foglio che aveva davanti, dopo preso l'unico lume che era sul tavolino, dimenticando gli ospiti e i loro divertimenti. Eugénie, alla quale un tipo così perfetto, tanto nell'abito che nella persona era affatto ignoto, credette di vederne il cugino una creatura scesa in terra, da qualche regione serafica. Con vera delizia, ella aspirava i profumi esalanti da quella splendida capigliatura inanellata con tanta grazia. Dentro di sé provava una voglia acuta di toccare la pelle bianca di quei guanti sottili, e un senso di invidia per le mani piccole di Charles, per il suo colorito e la freschezza delicata dei lineamenti. Se l'immagine può riassumere l'impressione del giovane elegante sulla fanciulla ingenua, sempre intenta a ramendar calze o a mettere in ordine la biancheria di casa, sulla fanciulla che aveva vissuto fino allora, fra quelle sporche pareti, divertendosi a vedere qualche raro individuo che attraversava la via silenziosa, questa è che la comparsa del cugino le destò in cuore quel sentimento di fine voluta spirante dalle fantastiche figure di donne disegnate da Westall nelle strene inglesi ed incise dai Finden con tale abilità che sa quasi paura, soffiando sul foglio di carta velina di far sfumare le celesti apparizioni. Charles trasse di tasca un fazzoletto richiamato dalla grandama che viaggia in Iscozia, e Degeny, nel volgere l'occhio a quel grazioso lavoro eseguito con tanto amore durante il tempo che per l'amore era perduto, guardò il cugino quasi chiedendosi se proprio se ne sarebbe servito. Le maniere di lui, i gesti, il modo di usare l'occhialetto, l'impertinenza affettata, il disprezzo per quell'astuccio che pure poco prima le aveva fatto tanto piacere e che egli senza dubbio stimava ridicolo o di nessun valore tutto ciò, insomma, che urtava i nervi ai Cruchot ed ai Grassin, le riuscì d'un tratto così grato che prima ad addormentarsi fantasticò certo a lungo su quella fenice dei cugini. I numeri intanto si estraevano pian piano, a poco a poco la tomba la finì e la grossa nanò entrando disse ad alta voce «Signore, bisogna che mi diate delle lenzuola per accomodare il letto a questo giovanotto». La signora Grandè seguì la domestica e la signora de Grassin consigliò allora sottovoce «Teniamoci soldi e cessiamo il gioco». Ognuno fu sollecito a ritirare i suoi due soldi dalla vecchia sottocoppa ove li aveva depositati e ricostituitosi il circolo innanzi al fuoco si chiacchierò per un quarto d'ora. «Avete finito?» chiese Grandè senza interrompere la lettura. «Sì, sì», rispose la de Grassin, prendendo posto vicino a Charles. Eugénie, taciturna e seria per uno di quei pensieri che nel cuore delle ragazze svegliano per la prima volta il sentimento, uscì dalla sala a dare una mano alla madre e da nanò e, se in quel momento l'avesse interrogata un abile confessore, gli avrebbe senz'altro risposto che non pensava né alla mamma né alla serba, ma che sentiva dentro un desiderio pungente di veder la camera di suo cugino per occuparsi di lui e metterla a posto per riparare alle dimenticanze e prevedervi tutto allo scopo di renderla elegante e comoda per quanto fosse possibile. Già la fanciulla si credeva capace, lei sola, di comprendere i gusti e le idee del giovane. Difatti giunse appunto in tempo per dimostrare alla madre e a nanò le quali se ne tornavano sicure di aver tutto compiuto che invece tutto era da fare. Persuase la domestica di scaldare le lenzuola con la brace, pose ella stessa sulla vecchia tavola una tovaglia e le raccomandò di cambiarla ogni mattina. Convinse la madre che occorriva accendere nel caminetto un buon fuoco ed indurre la fantesca a portare su un grosso pezzo di legno senza dir nulla al padrone. Poi corse a prendere in uno degli armadi della sala un vecchio vassoio di lacca proveniente dalla successione dei Labertelier, un bicchiere di cristallo a sei facce, un cucchiaino dorato, una bottiglia antica su cui erano incisi degli amorini e dispose tutto trionfalmente in un quarto d'ora che non avesse mai avuto da quando era al mondo. Mamma disse «Se mio cugino non sopporterà mai l'odore di queste candele di sego se comprassimo delle steariche?» E svelta come un uccello andò a prendere nella sua borsa lo scudo che aveva ricevuto per le spese mensili. «Ecco, nanon, fa presto!» «Ma che dirà tuo padre?» Questa terribile obiezione fu strappata alla signora Grandet dalla vista di sua figlia armata ad una zuccheriera di antico sevro venduta dal castello di Froffon. «E dove prenderai lo zucchero? Sei matta?» «Nanon comprerà lo zucchero insieme con la cera, mamma!» «Ma tuo padre?» «E sarebbe poi conveniente che a sua nipote mancasse un bicchiere d'acqua zuccherata?» «D'altra parte non se ne accorgerà!» «Tuo padre vede ogni cosa!» disse la signora Grandet scuotendo la testa. La domestica tuttavia era ancora incerta perché conosceva a fondo il padrone. «Ma va dunque, Nanon! Già che è il giorno della mia festa!» La donna scoppiò a ridere fragorosamente sentendo il primo motto di spirito che la sua padroncina si fosse lasciato sfuggire e obbedì. Intanto, mentre Eugénie e la madre cercavano con ogni mezzo di abbellire la stanza destinata da Grandet al nipote, Charles era fatto segno alle attenzioni della signora de Grassin che gli prodigava mille moine. «È un bel coraggio il vostro signore?» gli diceva. «Un bel coraggio davvero lasciare in pieno inverno i piaceri della capitale per venire a Somur. Ma se noi non vi facciamo troppa paura vedrete che anche qui ci sarà da divertirsi». E terminò con una vera occhiata da provinciale, uno di quegli sguardi in cui la donna mette tanta riserva e tanta pudicizia che lasciano intravedere una specie di ghiotto desiderio ecclesiastico per cui ogni piacere sembra un furto o d'una colpa. Charles si sentiva così fuori posto in quella sala e così lontano dall'ampio castello e dalla fastosa vita in cui credeva si circondasse suo zio che osservando la signora de Grassin vi scorse quasi una immagine mezzo sbiadita delle figure parigine. Rispose con grazia all'invito rivoltogli e si impegnò tra loro un colloquio in cui la donna abbassava poco a poco la voce per adattarla a ciò che voleva dire. In Charles ed in lei era un medesimo bisogno di confidarsi e dopo qualche minuto di chiacchiere maliziose di frizzi l'astuta provinciale senza farsi sentire dagli altri i quali parlavano dell'argomento allora prediletto a Saumur la vendita di vini poté sussurrargli signore se vorrete onorarci in casa avremo un gran piacere io e mio marito la nostra sala è l'unica in città che accolga l'alto commercio e l'aristocrazia noi apparteniamo ad ambedue queste classi e solo da noi i migliori della città vogliono incontrarsi perché vi si divertono mio marito lo dico con orgoglio è stimato ugualmente dagli uni e dagli altri cercheremo insomma di rompere la noia del vostro soggiorno qui guai a rimanere in casa del signor grande vostro zio è uno spilorcio che non vede oltre le sue vigne sua moglie è una pinzò che era incapace anche della minima idea e vostra cugina è una scioccherella senza educazione una ragazza comune senza dote continuamente occupata a rammendar stracci è abbastanza a modo questa donna pensò il giovane mi sembra moglie mia che tu ti voglia accaparrare il signore osservò ridendo il grosso e gran banchiere a quella frase il notaio e il presidente si lasciarono sfuggire parole più o meno insinuanti ma l'abbate li guardò con aria di intelligenza e ne riassunse i pensieri tirando una presa di tabacco e offrendo in giro la tabacchiera chi meglio di lei disse potrebbe fare al signore gli onori di Somur a questo poi come lo potete giudicare signor abbate chiese il banchiere lo intendo nel senso più favorevole per voi per madama per la città di Somur e per il signore aggiunse lo scaltro vecchio volgendosi verso Charles senza mostrare di prestarvi attenzione l'abbate Cruchot aveva capito a volo il senso delle parole scambiate tra il giovane e la signora de Grasse signore disse al fine Adolf a Charles con un moto che si sforzava di rendere disinvolto non so se vi rimanga qualche ricordo di me io ebbe il piacere di essere di fronte a voi in un ballo del parone di Nussingin e sicuro sicuro interruppe Charles sorpreso di vedersi l'oggetto della generale attenzione poi chiese alla moglie del banchiere il signore è vostro figlio l'abbate guardò la madre con aria smaliziata ma ella rispose subito di sì siete venuto dunque in età abbastanza fresca a Parigi aggiunse Charles volgendosi ad Adolf che volete signore disse l'abbate noi li mandiamo a Babilonia non appena svezzati la signora de Grasse rivolse al prete uno sguardo stranamente scrutatore bisogna visitare le province continuò l'altro per trovare donne da 30 a 40 anni fresche come la signora dopo aver avuto dei figli che stanno per compiere il corso di legge e volgendosi al suo avversario femminile insisteva mi sembra di essere ancora nei beati giorni in cui giovani e dame salivano sulle sedie per vedervi ballare e i vostri successi per me paiono di ieri ah vecchio scellerato pensava la grassè che m'abbia capito comincio a credere di aver buon gioco a saumur mormorava charles tra sé e sé sbottonandosi il soprabito e mettendo la mano nello sparato del panciotto con lo sguardo errante per imitare la posa che chantrey aveva dato a lord byron la distrazione di papà grande per meglio dire la preoccupazione che gli cagionava la lettura di quel foglio non sfuggiva al notaio e al presidente i quali facevano ogni sforzo per indovinarne il contenuto dai moti impercettibili del viso allora illuminato in pieno dalla candela a stento il vignarolo riusciva a conservare la calma abituale della sua fisionomia e non sarà difficile arguire quel che provasse leggendo la fatale lettera che segue fratello mio sono ormai 23 anni che non ci vediamo in occasione del mio matrimonio ci trovammo insieme e ci lasciamo lieti tutti e due certo non mi era dato prevedere che tu dovessi un giorno divenire il sostegno di quella famiglia alla cui prosperità allora applaudivi quando ti giungerà questa lettera io sarò morto poiché nella posizione in cui mi trovavo non ho voluto sopravvivere all'onta di un fallimento mi son tenuto fino all'ultimo sull'orlo dell'abisso sperando di vincere la vertigine bisogna cadervi le bancarotte contemporanee del mio agente di cambio e del mio notaio roguin mi tolgono le ultime risorse non mi lasciano più nulla ho il dolore di non poter offrire che il 25% su un debito di 4 milioni i miei vini in deposito nelle cantine subiscono la concorrenza rovinosa prodotta dall'abbondanza e dalla qualità dei vostri tra tre giorni Parigi dirà il signor grande era un briccone avvolgendo così la mia probità in un lenzuolo d'infamia e io penso a mio figlio penso che macchio il suo nome che disperdo la sua ricchezza non sa nulla quello sventurato ragazzo che io idolatro ci siamo separati con un tenero addio e fortunatamente ignorava che gli estremi aneliti della mia vita vi si effondevano non mi maledirà fratello fratello è orribile la maledizione dei figli grande tu sei il maggiore e tu proteggimi fai in modo che Charles non abbia parole amare sulla mia tomba fratello se ti scrivessi col sangue e con le lacrime non sentirei tanta angoscia quanta io ne verso in questa lettera perché io piangerei allora colerei sangue sarei morto e non soffrirei più mentre ora soffro e vedo la morte ad occhi asciutti eccoti dunque padre di Charles egli non ha parenti dal lato materno e tu sai la ragione ah perché non ho io seguito i pregiudizi sociali perché ho ceduto all'amore perché ho sposato la figlia naturale di un gran signore Charles non ha più famiglia ho sventurato figlio figlio mio ascoltami grande io non ti imploro a mio vantaggio poiché forse i tuoi beni non sosterrebbero una ipoteca di tre milioni ma ti imploro caldamente per mio figlio pensando a te le mie mani sono congiunte supplichevoli morendo io ti affido Charles e guardo senza angoscia le pistole nella certezza che gli farai da padre oh se mi voleva bene il povero ragazzo ed io ero con lui tanto buono da non contrariarlo mai non mi maledirà del resto tu vedrai e di carattere dolce come sua madre è incapace di darti dispiaceri povero figlio avvezzo alle gioie del lusso ignora fin la più meschina delle privazioni cui ambedue fumo da principio condannati per miseria ed eccolo povero e solo intanto sì tutti gli amici miei lo fuggiranno essero io la causa di tali umiliazioni come vorrei con sovrumana forza di braccio spingerlo ad un colpo in cielo accanto a sua madre pazzia ricado nella mia sventura che è quella di charles io te lo mando perché tu pietosamente gli faccia conoscere la mia morte e la sua condizione in avvenire sii un padre per lui ma sai indulgente e non strapparlo subito alla vita spensierata che conduce perché l'uccideresti dal canto mio lo prego in ginocchio di rinunziare all'azione che avrebbe contro di me in qualità di erede della madre lo reputo una preghiera superflua conosco il concetto che gli ha dell'onore capirà subito che non deve unirsi ai miei creditori provvede in tempo utile alla sua rinunzia della mia successione spiegagli come tanto dura gli si presenterà la vita per causa mia e se t'accorgi che gli rimanga un resto d'affetto digli che tutto non è perduto sì il lavoro che ci ha salvati entrambi può a lui rendere la ricchezza che gli tolgo e se non disprezza il consiglio di suo padre che vorrebbe sorgere un istante dalla tomba per essergli accanto parta vada nelle indie fratello mio a charle un giovane probo e coraggioso e tu gli comprerai delle merci e gli morrebbe piuttosto che non renderti i primi fondi avuti in prestito già che tu glieli presterai grande altrimenti i rimorsi ti dilanierebbero ah se mio figlio in te non trovasse soccorso né affetto io chiederei eternamente a dio vendetta della tua durezza se mi fosse riuscito di salvare dei valori avrei avuto ben diritto di assicurargli una somma per compensarlo in certo modo dei beni di sua madre ma i pagamenti della fine mese hanno assorbito ogni cosa sarebbe stato desiderio mio vivissimo non sentir più dubbio sulla sorte del povero ragazzo e morire confortato di sacre promesse dal calore della tua mano ma mi manca il tempo mentre charla è in viaggio io debbo mettere a posto i conti e mi sforzerò di provare con la buona fede che ha sempre regolato i miei affari come non vi sia colpa o disonestà nella sventura che mi colpisce forse così non mi occupo ancora di charl addio fratello e le più ampie mededizioni di dio ti circondino per la generosa tutela che ti affido e che accetti senza dubbio ricordati che sempre una voce pregherà per te in quel mondo dove un giorno tocca a tutti andare e ove io già mi trovo Victor Ange Guillaume Grandet voi chiacchierate disse papà Grandet piegando accuratamente la lettera per metterla in una tasca del panciotto e voltosi a suo nipote con un'aria timida ed incerta che celava la sua emozione ed i suoi calcoli vi siete riscaldato? sì caro zio ebbene dove sono le nostre dame chiese poi dimenticando che suo nipote dormiva in casa ma in quel momento entrarono Eugenie e sua madre e con la solita calma domandò è tutto pronto lassù? sì babbo allora nipote mio se vi sentite stanco Nanon vi indicherà la camera non è certo un appartamento da damerino ma voi vorrete scusare un povero vignarolo che non riesce a mettere un soldo da parte le imposte ci portan via tutto ci sembra di diventare indiscreti grande disse il banchiere forse avrete qualcosa da dire a vostro nipote vi auguriamo la buona sera a domani a queste parole tutti si alzarono ed ognuno fece il suo inchino secondo il solito il vecchio notaio andò a prendere presso la porta la sua lanterna e venne ad accenderla offrendo ai des grassè di accompagnarli poiché la signora non aveva certo previsto l'incidente che avrebbe interrotto la serata e il suo domestico non era giunto ancora volete farmi l'onore di accettare il mio braccio disse l'abate cruciò grazie signora abate o mio figlio rispose la de grassè seccamente forse le signore temono di compromettersi con me osservò l'abate prendi dunque il braccio del signor cruciò le disse il marito l'abate si mosse con premura in modo da avanzare di pochi passi la comitiva e stringendo leggermente il braccio della graziosa moglie del banchiere le disse giunge davvero a proposito questo giovanotto signora meglio dire addio alla signorina grande Eugénie sarà per il parigino e se questi non ha qualche amoretto serio a Parigi vostro figlio Adolf troverà in lui il rivale più ma state un po' zitto signora abate quel giovane si accorgerà subito che Eugénie è una scioccarella e una ragazza appassita l'avete osservata stasera non pareva gialla come una mela cotogna forse l'avrete già fatto notare al cugino o non occorreva che mi fossi presa questa briga però state sempre a fianco di Eugénie e non avrete bisogno di dir molto al giovane contro sua cugina egli stesso farà un paragone che e poi mi ha promesso di venire a pranzo da me dopodomani ah se voleste signora sussurrò l'abbate e che dovrei volere signora abate sembra conveniente anche a voi darmi i cattivi consigli non sono arrivata senza macchia all'età di 39 anni grazie a dio per compromettermi ora quando anche si trattasse dell'impero del gran mogol siamo tutti e due mi pare in un punto della vita in cui si capisce a che tenda ciò che si dice per essere un ecclesiastico avete belle idee incongruenti quel che sento è degno di fobla avete dunque letto fobla no signora abate volevo dire i legami pericolosi ah quel libro è molto più morale esclamò il prete ridendo ma voi mi giudicate perverso come un giovine moderno mentre semplicemente volevo vi sfido a provare che non ci fosse dell'osco nei vostri consigli infatti è chiaro sì o no che facendo a me la corte quel giovanotto molto a modo davvero non penserebbe alla cugina so bene che a parigi qualche buona madre si sacrifica così per la felicità e la ricchezza del figlio ma noi siamo in provincia signora abate sì signora ed io non desidero né ad olf li vorrebbe anche cento milioni acquistati a tal prezzo oh non ho parlato di cento milioni perché allora forse la tentazione sarebbe stata superiore ad ambe due solo mi sembra che una donna onesta possa arrischiare qualche piccola civetteria che fa parte dei suoi doveri in società e che lo credete non si deve forse ad ogni modo cercare la reciproca simpatia scusate mi soffio il naso intanto signora va sicuro che vi guardava attraverso le lenti con aria un po' più lusinghiera di quella che aveva quando ha fissato me però io non gli rimprovero questa preferenza della bellezza alla vecchiaia è indiscutibile predicava intanto il presidente con la sua grossa voce che il signor grande di parigi mandi suo figlio a saumur con evidente scopo matrimoniale ma allora il cugino non sarebbe piombato come una bomba rispondeva il notaio ciò non vuol dire nulla osservò grassè l'amico sa regolare i propri affari di nascosto grassè un caro mio ho invitato a pranzo quel giovanotto e bisogna che tu avvisi il signore e la signora di l'arsonier e gli otois con la bella signorina di otois bene inteso però che la si vesta bene quel giorno sua madre ne è gelosa e la lascia andare così male spero signori che anche voi ci farete l'onore di venire aggiunse quindi la signora rivolgendosi ai due cruciaux eccovi a casa signora disse il notaio dopo aver salutato i des grassè i tre cruciaux si avviarono per la loro strada appigliandosi a quella speciale facoltà d'analisi di cui sono ricchi i provinciali per studiare sopra ogni viso il grande avvenimento di quella sera che cambiava la posizione rispettiva dei cruciottiani e dei grassinisti per il meraviglioso buonsenso che ispirava gli atti di quei forti calcolatori sentirono entrambi la necessità di allearsi momentaneamente contro il nemico comune non era compito loro esclusivo l'impedire che Eugénie si innamorasse del cugino e che Charles pensasse a lei avrebbe il giovane potuto resistere alle perfide insinuazioni alle calunnie melate alle maldicenze piene di elogi alle ingenue negative da cui sarebbe stato circondato per trarlo in inganno non appena i quattro parenti furono soli in sala il signor grande disse al nipote è troppo tardi per parlare di quanto vi interessa va al meglio andare a letto e rimettere la cosa a domani a un momento opportuno qui si fa colazione alle otto a mezzogiorno qualche frutta e un po' di pane e beviamo un bicchiere di vino bianco poi si pranza come i parigini alle cinque ecco l'ordine se vi piacerà veder la città o i suoi dintorni sarete libero come l'aria e vogliate scusarmi se le mie occupazioni non mi permetteranno sempre di farvi compagnia forse vi annunceranno tutti che son ricco il signor grande di qua il signor grande di là per conto mio badate li lascio dire perché quelle vanterie sono piuttosto favorevoli al mio credito ma in realtà non ho un soldo e dalla mia età a lavoro come un giovanotto che non ha altro patrimonio che una cattiva pialla e due buone braccia forse non passerà molto che non vi tocchi provar da voi stesso quello che vale uno scudo per chi se l'è sudato ed ora nanò le candele spero nipote mio che troverete lassù quanto potrà occorrervi disse la signora grande nanò sarà difficile cara zia perché mi sembra d'aver portato tutto il necessario permettete che auguri la buonanotte a voi e dalla cuginetta charles prese dalle mani della domestica una candela di cera accesa di un bel giallo colorito una candela dell'angio tanto simile a una candela di sego che il signor grande il quale non sospettava nemmeno che potesse esistere quell'oggetto in casa sua non si accorse affatto di tanta magnificenza vi faccio strada disse invece di passare dall'uscio della sala quasi appiccicato sotto la volta grande volle per cortesia attraversare il corridoio che separava la sala dalla cucina una porta con un largo pezzo di vetro ovale chiudeva quel corridoio dalla parte della scalinata e temperava l'aria fredda che riusciva a ingolfarvisi benché d'inverno il vento gelato vi penetrasse ugualmente nanò andò a tirare i chiavistelli del portone chiuse la sala e sciolse nella scuderia un mastino dalla voce rauca quasi avesse sofferto di laringite quell'animale d'indole feroce conosceva solo la fantesca i due figli dei campi si intendevano benissimo fra loro quando il giovane vide le mura giallastre e affumicate di quella specie di gabbia in cui la scala dei gradini tarlati tremava sotto il passo pesante dello zio la sua meraviglia andò rinforzando e gli parve di trovarsi in un pollaio la zia e la cugina verso cui si volse con muta interrogazione erano tante avvezze a quella scala che non seppero comprendere il suo stupore e interpretandolo per un'espressione di amicizia gli risposero con un sorriso affettuoso che lo esasperò che diamine mi manda a fare qui mio padre pensava giunto sul primo pianerottolo vide tre porte dipinte in rosso d'etruria e senza intelaiature tre porte perdute nella muraglia polverosa e guarnite di strisce di ferro con chiavarde terminate a mo' di fiamma come erano le due punte della serratura una di esse quella che dava adito alla stanza posta sopra alla cucina era stata murata e vi sentrava solo per la camera di grandè a cui quel locale serviva da studio l'unica finestra che potesse dare un po' di luce rispondeva sul cortile ed era difesa da enormi spranghe di ferro nessuno neanche la signora grandè poteva entrarvi perché il buon uomo usava chiudervisi solo come un alchimista innanzi al fornello la senza dubbio era dissimulato con abilità qualche nascondiglio dove scomparivano i titoli di proprietà in quella stanza pendevano le bilance per pesare i luigi e nel segreto della notte grandè vi faceva conti e ricevute la gente d'affari trovando sempre grandè pronto a tutto era quasi tentata di credere che avesse ai propri ordini una fata o un demonio la senza dubbio quando nanò russava forte da scuotere il soffitto e il cane vigilava abbaiando nel cortile mentre le due donne erano immerse nel sonno si rinchiudeva il vecchio bottaio per depositare l'oro per carezzarlo per covarlo e metterlo al sicuro sotto i chiavistelli le mura erano doppie le imposte discrete lui solo aveva la chiave di quel laboratorio ove si diceva che esaminasse le mappe dei suoi frutteti per calcolarne minutamente il prodotto di fronte alla porta murata era quella della camera di Eugénie e più in là in fondo al pianerottolo si apriva l'appartamento dei due coniugi che occupava tutta la facciata della casa la signora Grande aveva una stanza contigua a quella di Eugénie in cui si entrava per un uscio a vetri la camera del padrone era separata da quella della moglie mediante un tramezzo e dal misterioso studio mediante un grosso muro papà Grande aveva stabilito che suo nipote dormisse al secondo piano nell'alta soffitta posta al di sopra della sua stanza in modo da poter udire quando al giovane fosse venuto l'estro di muoversi Eugénie e la madre giunsero in mezzo al pianerottolo si scambiarono il bacio della sera poi dopo aver detto a Charles qualche parola da Dio fredda sulle labbra ma ardente certo nel cuore della giovine si ritirarono eccovi in camera vostra nipote disse papà Grande a Charles prendogli la porta se avete bisogno d'uscire chiamate Nanon perché senza di lei caro mio il cane vi mangerebbe addirittura buonasera e buon riposo ah le signore vi hanno acceso del fuoco in quel punto veniva sulla grossa Nanon con uno scaldaletto ed eccone ancora dell'altro riprese e vi sembra forse che mio nipote sia una donniciola porta via quella braccia Nanon ma signore le lenzuola sono umide e poi a dir la verità questo giovanotto è delicato come una donna e avanti dunque già che te lo sei messo in testa aggiunse il vecchio spingendola per le spalle ma bada bene a quello che fai e scese borbottando Charles intanto era rimasto immobile tra le sue valigie dopo aver gettato uno sguardo sui muri di quella soffitta tappezzati di una carta gialla a fiorami come se ne trova nelle pareti delle osterie poi sul caminetto di pietra a scanalature la cui sola vista dava un senso di freddo poi sulle sedie di legno giallastro ornate di canne verniciate che parevano aver più di quattro angoli poi sul comodino aperto in cui si sarebbe potuto nascondere un piccolo sergente dei volteggiatori poi sul tappeto sottile logore disteso a piede del letto guardò serio la domestica e le disse ma dimmi ragazza son proprio in casa del signor Grandet l'ex sindaco di Saumur fratello del signor Grandet di Parigi si si siete in casa ad un amabile signore una vera perfezione va aiuto ad aprire le valigie per bacco se devi aiutarmi vecchio soldato non hai servito nei marinai della guardia imperiale oh 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 esclamò la donna che dite i marinai della guardia è piccante non vanno mica sull'acqua loro prendete eccovi la chiave di quella valigia lì deve esserci la mia veste da camera datemela Nanon fu meravigliata vedendo una stoffa di seta verde a fiori d'oro e a disegni antichi e vi mettete questo per andare a letto chiese si vergine santa che bella tovaglia sarebbe per l'altare della parrocchia ma caro signorino regalatela alla chiesa quella stoffa e ne avrete salva l'anima mentre così la perdete oh come state bene adesso vado a chiamare la padroncina perché vi veda Nanon sta zitta e lasciami dormire faremo domani quel che occorre e se la mia veste ti piace tanto salverai l'anima non dubitare son troppo buon cristiano e te la lascerò partendo perché tu ne faccia quello che ti pare Nanon rimase piantata su due piedi a contemplare Charles incerta se prestar fede alle sue parole regalarmi quella galanteria disse poi nell'uscire già sogna il signorino buonasera buonasera Nanon che son venuto a far qui pensò Charles addormentandosi mio padre non è uno sciocco e uno scopo ci ha da essere in questo viaggio boh a domani gli affari seri diceva non so più quale imbecille della Grecia santa vergine come fino mio cugino pensò i geni interrompendo le preghiere che per la prima volta rimasero incomplete la signora grande non ebbe alcun pensiero nel mettersi a letto e soltanto attraverso la porta di comunicazione udiva l'avaro andare su e giù per la stanza per un'attente continua osservazione richiesta dalla sua timidezza era giunta a conoscere a fondo il carattere del suo dominatore e simile alla procellaria che prevede l'uragano aveva potuto quella sera da segni impercettibili presentire l'interna tempesta che agitava grande quindi per dirla con un termine da lei adoperato faceva allora la morta l'ex bottaio guardava l'uscio del suo studio foderato di lastre di latta mormorando ma che idea bizzarra ha avuto mio fratello di affidarmi questo ragazzo bella successione per me non ho venti scudi da dare ma se anche li avessi cosa mai sarebbero per un bell'imbusto che fissa dietro l'occhialetto il mio barometro con l'aria di chi vuol buttarlo al fuoco pensando alle conseguenze di quel testamento di dolore grande era forse più agitato del fratello stesso nel punto di stenderlo e avrò io quella stoffa d'oro mormorava non cedendo al sonno e figurandosi già vestita di quella magnifica tovaglia da altare sognando fiori tappeti e damaschi per la prima volta in vita sua come per la prima volta Eugénie sognava d'amore d'amore grazie a tutti